Il ritorno della corrida La trasmissione di Corrado torna su Rai 1 nella primavera 2018, il format è della Corima, la casa di produzione della vedova di Corrado, che ha aperto il casting sulla pagina Facebook. E sarà presentato da Carlo Conti, orfano del Festival di Sanremo. Noi di Blogove l'avevamo anticipato e ora il rumor sta diventando realtà. Lo storico format di dilettanti allo sbaraglio, portato al successo da Corrado, tornerà in onda nella primavera del 2018. La Corima, casa di produzione diretta da Marina Donato, moglie dello stesso Corrado, ha aperto il casting sulla pagina ufficiale Facebook. Chi ritiene di saper ballare, cantare, recitare e suonare può inviare i propri dati alla corrida chiocciola la corrida.tv. Sarà proprio Carlo Conti, orfano del Festival di Sanremo, a riproporre il noto varietà portandolo per la prima volta su Rai 1. Su Canale 5 a condurlo per tanti anni, al sabato sera era stato Geri Scotti, per poi dare in eredità l'ultima edizione, dal successo appannato, a Flavio Insinna, nel 2011. Ora l'ironia della sorte vuole che a ereditare la corrida sia proprio l'ex conduttore dei raccomandati, people show che ne richiamava lo spirito. Conti si appresta, dunque, a mettere in soffetta i migliori anni per andare in onda in primavera con la corrida. La sera dell'Immacolata, intanto, lo attende la serata evento per celebrare il 60 grado anniversario dello Zecchino d'oro e riportarlo in prima serata. Considerato il successo che il conduttore ha riportato con un'altra serata evento, quale il Pavarotti e Friends a settembre, si prospettano nuove AmarCord. Da record. Da record.